Ben ritrovati amici di Infocilento con un nuovo appuntamento con il programma Parola all'esperto. Ogni settimana intervistiamo un esperto scelto proprio da voi. Infatti vi ricordo di inviarci le vostre richieste al numero 327 22 95 001. Oggi abbiamo deciso di trattare un argomento molto importante e delicato e abbiamo deciso di farlo con un ospite che è già stato qui in studio con noi. Abbiamo quindi in collegamento la dolcissima e bravissima dottoressa Valentina Cortese, psicoeducatrice. Salve dottoressa! Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Sono contenta che oggi trattiamo questo tema davvero importante. Sì, è un tema molto delicato e importante. Abbiamo deciso di trattarlo proprio con lei per la sua bravura e la sua dolcezza soprattutto perché diciamo con questo tema serve sempre. E abbiamo deciso di trattare proprio l'argomento dell'autismo. Quindi voglio subito iniziare. Può spiegare ai telespettatori in breve cos'è l'autismo? Di cosa si tratta? Diciamo che in linea generale possiamo dire che l'autismo è un disturbo neurologico che va ad influire su quello che è lo sviluppo delle abilità sociali, comportamentali e comunicative. Sicuramente dobbiamo dire che si manifesta nei primi anni di vita, ma si manifesta in modi molto diversi. Quindi parliamo di diversi tipi di livelli di gravità. Ecco perché parliamo di spettro dell'autismo. proprio perché non possiamo parlare di un'unica tipica persona autistica, ma bensì abbiamo una vastità di sfumature e di livelli di gravità dell'autismo. Quindi parliamo di diversi tipi di condizioni, diverse caratteristiche. Perfetto. Molti telespettatori ci hanno posto questa domanda che ora le vado a fare. Infatti diciamo abbiamo preso spunto proprio dalle domande che abbiamo ricevuto per trattare questo argomento. E molti ci chiedono quali sono i segnali che i propri genitori possono vedere nei loro figli che potrebbero indicare lo sviluppo dell'autismo? Allora, i segnali possono essere tanti. Quindi per esempio possiamo parlare di una difficoltà nelle interazioni sociali. Quindi magari anche la difficoltà da parte del bambino di mantenere lo sguardo con l'altra persona. Quindi evitare il contatto visivo con l'altra persona. Magari anche quelle che sono delle difficoltà comunicative. Possiamo prendere in considerazione magari un ritardo nello sviluppo della comunicazione o magari quelli che possono essere dei comportamenti ripetitivi, degli interessi intensivi verso determinate oggetti o situazioni. Però c'è da dire comunque che tutto questo va un po' preso con le pinze perché stiamo parlando comunque di un disturbo importante che diciamo non possiamo parlare di quello che può essere un autodiagnosi o magari una diagnosi fai da te. Dobbiamo comunque dire che anche se magari possono essere presenti alcuni di questi tratti non per forza si può parlare di autismo e viceversa. Quindi è importante però fare che cosa? Cercare di captare quello che possono essere dei segnali che possono far destare un po' di dubbi e rivolgersi comunque a dei professionisti in modo da riuscire ad avere una diagnosi precoce perché è importantissima quindi riuscire ad avere una diagnosi precoce quindi sin da subito riesce poi a migliorare quello che sono i comportamenti, le prospettive proprio del bambino. Una volta che noi ci accorgiamo di questi elementi che lei ha citato qual è il percorso da genitori che si deve fare? Dobbiamo andare subito da qualcuno specializzato e poi cosa dobbiamo fare? Sì, diciamo che si deve cercare subito di avere una diagnosi o meno quindi nel momento in cui si ha una diagnosi è importante che i genitori si facciano aiutare da un'equip proprio di professionisti perché poi sono tante le sfaccettature che comunque vanno a interessare non solo il disturbo ma proprio la vita quotidiana non solo del bambino poi ma anche della famiglia quindi è importante partire da quelli che possono essere dei dubbi arrivare a delle certezze e andare quindi poi a creare quello che è un intervento poi sul disturbo vero e proprio. Perfetto. E in che modo la psicoeducatrice può supportare i bambini autistici nel loro apprendimento e nello sviluppo delle abilità sociali? Allora diciamo che nel mio caso, quindi nel mio lavoro io da psicoeducatrice cerco comunque di dedicarmi maggiormente alle famiglie quindi al supporto delle famiglie anche perché diciamo le famiglie che al loro interno hanno degli individui autistici comunque riscontrano tante difficoltà sicuramente uno degli elementi più importanti per una famiglia è cercare di apprendere il più possibile su questo disturbo quindi nel mio caso una psicoeducatrice può aiutare a conoscere di più a sapere di più del disturbo e magari dello specifico di cui appunto si ha in famiglia e cercare quindi di riuscire a comprendere come diciamo attenuare anche alcuni comportamenti sicuramente è anche molto importante il supporto emotivo perché sicuramente diciamo tutto quello che ruota poi intorno alle famiglie va ad incidere ecco non solo il disturbo in sé per sé ma anche tutto quello che c'è intorno che rende ancora più difficile ecco riuscire a mantenere un equilibrio quindi il supporto emotivo è importantissimo sicuramente c'è da dire come abbiamo detto prima che la psicoeducatrice lavora sempre in equip poi in questa situazione quindi con diversi altri professionisti, tecnici che possono aiutare in tutte le sfaccettature la famiglia in questo disturbo questo è molto importante la prima cosa è la collaborazione tra vari medici e vari specialisti e oltre alla famiglia e ai centri specializzati che seguono questi bambini lei ha parlato appunto di supporto ai genitori quali sono le sfide più comuni che i genitori dei bambini autistici affrontano ogni giorno? Allora io in realtà dico sempre che ci sono un po' tre fasi la prima fase della difficoltà in sé per sé grandissima è quella dell'accettazione della diagnosi perché molti genitori poi una volta ricevuta la diagnosi hanno difficoltà ad accettare cosa realmente sta succedendo sicuramente questo poi non è di aiuto per il proprio figlio però è da comprendere magari delle volte entrano in un loop di pensieri dove magari si sentono un po' perché a me o magari ora come faremo sicuramente questa è la prima grande difficoltà accettare la diagnosi la seconda grande difficoltà sempre a livello generico è sicuramente quella dell'inclusione di se stessi e dei propri figli perché poi ancora purtroppo a livello sociale nonostante comunque ad oggi sia un disturbo abbastanza ampio è ancora poco conosciuto e quindi si ha difficoltà di includere effettivamente nella società ragazzi, bambini, adulti che hanno questo disturbo quindi la difficoltà dei genitori è proprio cercare di trovare un posto per i propri figli ecco diciamo così e poi l'altra difficoltà è quello che si pongono un po' tutti i genitori magari relativa al futuro dei propri figli è vero, è proprio così e invece quali sono i miti più comuni da sfatare sull'autismo? in realtà ce ne sono tantissimi perché ecco come abbiamo detto prima non è raro ma è molto presente quindi ad esempio uno dei miti può essere come abbiamo detto che molti pensano che gli autistici siano tutti uguali ecco come abbiamo detto prima invece non è così perché abbiamo appunto uno spettro quindi abbiamo delle diversità oppure ad esempio che gli autistici non provino emozioni, empatia anche questo è completamente falso perché noi dobbiamo comunque comprendere che non è che non lo provano ma non lo sanno esprimere nei modi tradizionali convenzionali socialmente oppure magari che gli autistici siano tutti super intelligenti ecco magari con un'intelligenza molto oltre la media ecco anche questo non è completamente vero perché come abbiamo detto prima abbiamo diversi tipi ecco di autismo e quindi automaticamente ci sono soggetti che sono pienamente nella media e chi magari la supera oppure magari quella che ci tengo davvero tanto a sfatare è che gli autistici non possono avere una famiglia o una relazione romantica ecco in realtà non è così perché provano sentimenti, provano emozioni e sono delle personalità uniche che vanno comunque comprese e quindi possono essere amate e possono amare infatti ed è giusto così perché comunque sono persone da amare e da voler bene ancora di più perché ne hanno più bisogno e siamo in chiusura purtroppo perché comunque è una puntata molto interessante è un argomento soprattutto che ci tocca molto e se ne può parlare davvero ancora e ancora e ancora e senza mai smettere e sempre sentendo comunque notizie in più volevo chiudere comunque con dei consigli può dare dei consigli pratici alle famiglie che cercano di creare un ambiente favolevole e socievole per il benessere e lo sviluppo del bambino con il disturbo dello spettro dell'autismo? Assolutamente sì diciamo che il primo consiglio che posso dare è quello di educarsi all'autismo perché come abbiamo anche già detto prima bisogna conoscere il più possibile questo disturbo quella che è la sfaccettatura che magari si ha per il proprio figlio e conoscere il più possibile per riuscire a comprendere quelli che sono i comportamenti per riuscire ad adattare insieme poi ai professionisti quelle che sono delle strategie un altro tipo di consiglio che posso dare e che sicuramente è importantissimo di un po' curare anche se stessi perché molto spesso questi genitori si tendono a diciamo tuffarsi completamente nel disturbo del proprio figlio dimenticandosi anche un po' dei propri bisogni quindi il consiglio è quello di far sì che questi genitori possano permettersi anche un po' di cura dei propri bisogni magari anche di un po' di serenità di tranquillità propria perché sicuramente questo può giovare anche al proprio bambino e inoltre diciamo che un'altra cosa che ci tengo a consigliare è di cercare di vivere questa situazione sicuramente diciamo che l'autismo porta poi a delle difficoltà nel quotidiano a livello familiare però non è solo difficoltà è anche amore, è anche gioia si dice che di solito questi genitori amino il doppio perché hanno il doppio un po' delle sfide e quindi di concedersi anche di amare questa situazione quindi cercare di viverla nel migliore dei modi anche per il benessere ecco come dicevi tu del proprio bambino certo e soprattutto perché diciamo al giorno d'oggi ci sono comunque molte figure professionali e molti centri specializzati che sono pronti ad aiutare le famiglie e i genitori soprattutto dare molto supporto morale che ce n'è sempre tanto bisogno e magari prima invece non ce n'era così tanto io la ringrazio di essere stata nuovamente nostra ospite di aver accettato il nostro invito purtroppo la puntata è terminata i nostri minuti sono finiti però la ringrazio dei preziosi consigli che ha dato a tutti noi e a tutti i nostri telespettatori che ci seguono da casa grazie mille grazie mille a voi per avermi invitata grazie grazie mille e ringrazio soprattutto voi da casa che ci seguite come sempre tutti i mercoledì alle 20 e 40 sul canale 79 del digitale terrestre e vi do appuntamento mercoledì prossimo con un nuovo esperto grazie mille a voi 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 grazie mille a voi